Di Giulio Cesare potremmo dire moltissime cose. Fu un politico, uno scrittore, un generale, un grande condottiero. E fu lo zio e il padre adottivo di Ottaviano che diverrà il primo imperatore di Roma. Nel 44 a.C. il 15 marzo all'età di circa 56 anni fu ucciso da una congiura. Di questo importante personaggio faremo altri video. Bibliografia, i testi e le immagini sono tratti da Wikipedia. Progettazione e realizzazione professore Salvatore Toscano.